amici eccoci di nuovo qua è grande grande fisico allora è stato anche quanti di noi l'hanno visto nelle varie cose allora da sapere cosa da sapere ci sono delle cose da sapere e allora oggi ho detto che cosa voglio fargli sapere vi voglio far sapere saluti la gorgonzola perché anche i commenti si blocca e dipende dove sei connesso grazie consigli grazie a te allora ci sono delle cose che sono successe è una cosa in particolare che non posso come dire tralasciare oggi è quello che sta succedendo nel mondo delle criptovalute soprattutto nel mondo del bitcoin allora è successo questo che come sapete negli ultimi anni si è diffusa sempre di più la il tema no il mondo della delle cripto monete è sempre più alla portata di tutti e è un mondo che si basa su diversi strati diversi livelli di come dire di di tecnologie la tecnologia è un po alla base di tutto questo è molto simile ad altre che sono state viste negli anni da chi come me insomma come dire ha passato ha vissuto l'evoluzione di quello che oggi è internet e tutto quanto è una la blockchain molto molto dirompente molto disruptive che potrebbe effettivamente diventare un nuovo database una nuova forma di database distribuito ed è un pilastro una gamba del tavolo l'altra gamba del tavolo sono le monete che vengono usate e i token che vengono utilizzati per fare pagamenti per scambiarsi come dire quello che una volta era proprio la moneta no il pezzo di moneta d'oro per saltare il baratto quindi una nuova forma di moneta e il terzo è il mondo delle come dire delle speculazioni sui valori di alcune di queste monete ok allora è sul terzo che ci sono i problemi perché non ci sono dubbi che la blockchain sia un'ottima un'ottima formula un ottimo un ottimo protocollo un ottimo modo per anche se ce ne sono di diversi tipi con diverse caratteristiche alcune un po come dire un po più rudimentali aggiustate bitcoin peraltro anche questa come dire molto lenta ma adesso grazie ad altre tecnologie viene velocizzata non stiamo entrare nel dettaglio ma è così come appunto le monete sicuramente se continuano così saranno a stare in piedi senza avere senza essere bucate eccetera potranno essere sicuramente come dire un nuovo modo di rappresentare un nuovo modo di pagare ma poi è successo anche che ci sono due mondi quello dei bitcoin in particolare e tutte quelle che si chiamano shit coin cioè le monete un po più schifose varie che arrivano vanno eccetera e il mondo degli nft che ne abbiamo già di cui abbiamo già parlato che in questo momento hanno la caratteristica di essere amati dagli amate dagli speculatori e allora succede che in questo periodo ho trovato un po di cose che trovo in giro no di informazioni di post eccetera che mi hanno rifatto riflettere molto perché che cosa è successo è successo è successo che vedete nel bitcoin e poi la faccina qua che mi fa mazzare da ridere è successo che e trovo posti di questo tipo buongiorno sono da poco nel mercato perso molti ethereum e bitcoin il mese scorso ma ora vedo un crollo non so che fare consigli no esempio e dopo ve lo commento a non è finita qui perché adesso stava scendendo ora in questo momento sta di nuovo risalendo però è lì che non si sa cosa succede arriva 20 mila e poi riparte come una bestia andate to the moon sulla luna no come ha detto però c'è chi fa il meme dice sì ma la luna peccato che però è qua no sia qua e l'altro dice scusate ma come mai usd usd e usd restano a galla e perché sono monete legate ovviamente al valore della fiat del dollaro in questo caso e poi si spendono con grafici di ogni genere previsioni incredibili questi qui sono quelli che si trovano oggi online no ma vi spiego il perché voi non avete studiato sono le frasi più comuni non avete studiato vedete c'è questa curva e poi c'è quest'altra perché funziona così ma è ovvio che la salita adesso va verso di là ma mi pare poi siti pazzeschi come questo che fanno addirittura le previsioni giorno per giorno di bitcoin ovviamente sbagliate prima ancora che c'è il tempo che esce è già sbagliata e altri grafici di tutti che prevedono cose e non solo questo qua che dice ce l'abbiamo fatta c'è gente che sta convincendo ragazzi di 18 anni che dicono sono diventato ricco questo dice che può vivere finalmente di rendita solo che peccato che si sbaglia perché questo qui in particolare se andate a vedere scoprite che quando parla di di rendita succede in sostanza che in sostanza succede che divide quello che ha guadagnato per i mesi è un piccolo problema perché se scendono ste criptovalute ciao guadagni allora che cosa sta succedendo in questo grande mondo succedendo che è praticamente un grande casino ovviamente non la gamba della blockchain non la gamba in generale delle cripto volete criptovalute o anche cripto token perché no ma la gamba della speculazione è una roba che niente a che fare con la bontà di quelle tecnologie un po come se ai tempi della mail ci fosse costato qualcuno che avesse iniziato a vendere email per assurdo a prezzi esorbitanti non aveva niente a che fare con la bontà o meno degli indirizzi mail e di quello che sarebbe successo negli anni ma la speculazione intorno avrebbe creato danni ho fatto già alcuni post di questo tipo è un momento in cui come dire ci sono sedicenti esperti che poverini secondo appunto danno in kruger come sapete due sociologi psicologi che hanno fatto una serie di esperimenti per cui è emerso che chi ne sa veramente poco di qualcosa inizia a impararlo dopo poco si sente di saperne un mucchio soprattutto oggi che c'è google a disposizione in questo caso magari del mondo speculativo ne impara qualcosa peccato però che si dimentichi e non abbia la possibilità però vi ragioni di comprenderne il contesto e il contesto spesso viene avvicinato e associato a quello della finanza ma poco a che fare a volte la finanza perché la finanza spesso non sempre purtroppo si basa magari su degli asset che esistono e tu dite ma giustamente uno può dire potrebbe dire sì vabbè ma aspetta perché sei rimasto indietro anche qui esiste non è perché digitale non esiste dico ditelo a me e c'è poca voglio dire poca cultura ecco poca cultura in generale l'avete visto dai messaggi che come dire fa sì che questo attragga poi altri che si rischiano di far male ad un casino ad un vero e proprio casino che è quello della speculazione questo non significa che bitcoin domani non arrivi a 200 mila dollari o che scenda a 100 dollari questo dipende dal mercato speculativo che c'è intorno da dove si sposterà da dove sta andando niente a che fare con la bontà delle criptovalute purtroppo è talmente come dire talmente basso il livello di quello che c'è in giro in questo momento e che quindi dei danni che fanno perché dovete anche ricordarvi che cosa sta succedendo sta succedendo che ovviamente come tutti i mercati della dove c'è la scarsità succede che più c'è domanda ok e più ovviamente sale il prezzo più la domanda non c'è più non interessa un prodotto un valore una materia un qualcosa un bene più il prezzo scende ovviamente quindi cosa accade che di conseguenza chi ne possiede un po e deve farli impossibile affinché gli altri li comprino così non si va a schiantare ma il prezzo sale detto in modo molto semplice e quindi sono degli attrattori comprate 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 non ascoltate gli ignoranti e allora mi ritrovo a leggere post dove è qua così tipo questo qua dice a me in un'affermazione dove dico guardate attenzione che potrebbe valere mille come 400 mila dice ma deriva da poca conoscenza del mondo cripto dice una riserva pari a loro e mi incomincia a farlo spiegone no spiega 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 un mercato in fase embrionale le scuole università insomma questo manco riuscito a fare google ma per farvi capire per me non è una questione personale mi conoscete io lo faccio come dire per altri modi non mi metto in comune è proprio per farvi vedere quanto oggi siano come dire non riescano alcuni a superare nemmeno la barriera di google cioè non vanno neanche a vedere chi è che ha scritto qualcosa cioè si fermano ahimia questo mi ha fatto la lezione no e allora un altro dice mettetevi in testa che il bitcoin non scenderà mai più i 45 mila io dico ma come fai a saperlo no cioè dico perché è evidente che questo signore lo dice perché ne possiede qualcuno non vuole perderli e quindi dice che afferma che mettetevelo in testa come dire sono esperto allora tu dici va bene fammi vedere il suo curriculum questo signore con tutto il rispetto per chi fa lavori diversi però fa parrucchiere cioè nel senso questo fa quello per cui non voglio dire perché questo proprio per l'effetto danni kruger cioè non la percezione è quella di se in un mondo chiuso in una bolla magari questo ha andato a leggersi qualche libro che già un libro antico ma voglio dire qualcosa qualche pdf su come funziona il criptovalute sente esperto no ecco questo è quello che sta succedendo e allora il problema è che tra quello che dice diventati ricchi quello che si occupa di capelli e non di digitale da 30 anni gli spiegano agli altri che cosa devono fare che salga o che scenda ci sarà sicuramente qualcuno che si farà molto molto male condividi questa live ovunque sia oggi non c'è audio su instagram purtroppo mi dicono mi segnalano c'è sempre un pezzo che non funziona bene chi lo sa come mai e vi voglio parlare di come ti frega una delle una delle dei dei sistemi insomma come dire per rubare i soldi alle persone peraltro è quello il phishing e allora c'è una bella classifichina che dice che il 30 adesso si legge male qua dovuto il 31 per cento del phishing di questo tipo è attenzione controlla subito la tua password poi subito dopo c'è guarda che in realtà le ferie sono cambiate e quindi uno ci clicca sopra poi altre legate al covid quindi guarda che adesso è cambiata la policy bisogna cambiate le regole eccetera quello del dress code non è molto diffuso in italia che in italia non c'è questa questa mania del dress code in inghilterra ad esempio si è molto diffusa cioè qualunque come dire luogo qualunque posto dove devi andare la prima domanda che devi fare ve lo dico se per caso sarete mai invitati a qualcosa è qual'è il dress code perché qua innanzitutto ci sono tre tipi di dress code adesso vi faccio un inciso che al centro è poco ma è cultura magari vi può essere utile tre tipi di dress code principali ad esempio in italia l'abito elegante è quello che chiamiamo smoking ok quindi uno dice vado in smoking e sono al massimo e di solito si usa capodanno perché in italia difficilmente no e qua ad esempio in grittura ci sono tre c'è lo smoking c'è il morning dress quello che vedete al royal ascolt con la coda dietro ma quello non con la coda lunga quello un po' grigione un po' schifosone bruttissimo e poi c'è il white tie che in italia si chiama il tight che qua si chiama white tie così come lo smoking qua si chiama black tie e in america si chiama taxido mamma mia che fatica insomma proprio per questo dov'è qua il click eccolo si utilizza proprio attenzione che non è più dress code black tie è diventato white tie attenzione non è più come si dice non è più oh my gosh vabbè non è più insomma easy ma eccetera eccetera sono pochi ci sono club dove molti club qua club vuol dire insomma inteso come luoghi dove si va bene un caffè eccetera dove ci vuole una membership cioè devi essere membro per andare dove senza cravatta you don't entry proprio zero cioè non puoi no è pieno di posti così e allora a londra bisogna ricordarsi quando si va in giro per i posti il dress code vabbè detto questo poi attenzione non c'è internet ti abbiamo disattivato la mail ti è successo questo questo quest'altro e queste sono quelle più diffuse però bisogna tenere gli occhi aperti perché guardate adesso una sentenza recentissima nel torinese la vittima di una truffa online ha perso 7500 euro però i giudici gli hanno dato torto non so se la giovane ha detto sostanzialmente che è lui che è stato negligente perché perché ha cliccato a caso e effettivamente sta andando sempre più così perché se io mi butto in mezzo alla strada senza guardare oggi e mi schiacciano mi pare di ricordare che in italia tende ad aver sempre ragione il pedone in inghilterra ve lo dico anche quando verrete a londra occhio è perché se passate attraversate fuori dalla striscia pedonale vi stirano e hanno ragione loro finito il problema no è pericoloso perché infatti non so se vi è capitato con i bus a londra che vi passano praticamente qua tutta una parte rasata qua del bus che passa e lui se ne frega dice vabbè se finisci sotto scosore devi stare attento tu ed è abbastanza riconosciuta questa cosa perché uno dice vabbè effettivamente dai bisogna guardare si sa che passa alle macchine è un po più nuovo il mondo del del digitale quindi è un po più facile che ci si dimentichi e non si guardi